Cari amici di Time Horse Protection, siamo venuti fino a qui in Polonia a Skarizev per documentarvi un mercato di cavalli che si tiene ogni anno in questa cittadina. La maggior parte di questi cavalli sono poi destinati al macello. Vediamolo insieme. Skarizev è una piccola cittadina 100 km a sud di Vassavia e circa 1200 km dai confini con l'Italia. Ogni anno da qui centinaia di cavalli partono verso il nostro paese con destinazione al macello. Il mercato inizia molto presto, già alle due di notte arrivano i primi camion e scaricano i cavalli. Che, come vedete, vengono legati in queste condizioni. Così trascorreranno tutta la notte e tutta la mattinata seguente, legati ai mezzi di trasporto e senza mai ricevere acqua nel cibo. Guardate in quali condizioni sono costretti a viaggiare moltissimi dei cavalli che arrivano qui. Guardate le condizioni di questo mezzo fratiscente e come sono stati stipati i cavalli all'interno. Osserviamo le incredibili condizioni di trasporto di questo cavallo e il veterinario che in casacca gialla arriva, fa una sommaria visita del mezzo e poi dice che tutto è regolare. Dovunque si vedono cavalli legati ai mezzi con 30 cm di corda, se non addirittura cavalli che sono stati lasciati dentro i mezzi di trasporto, sempre legati ai cordi. C'è un grande socappollamento, gli animali sono troppo stretti tra di loro e corrono il rischio di farsi male in ogni momento. Guardate ad esempio questo cavallo che dà in escandescenza e rischia di ferirsi. Ecco le condizioni di trasporto che abbiamo documentato tantissime volte a Scarifo. E guardate questi cavalli, sono legati dentro i camion sin dalla notte precedente e siamo già a metà mattinata. Altri cavalli legati all'interno dei camion. Questo poni manifesta evidente, segni di stress è legato a questo carretto dalla notte precedente. Siamo già in tarda mattinata e ancora viene tenuto in queste condizioni. Guardate adesso le condizioni di questo cavallino che ha meno di un anno di vita.